e ritorniamo qui su videonola al centro sportivo maracanà tra qualche secondo entreranno in campo le formazioni per la seconda partita di stasera per la supercoppa europea jack 2014 si affronteranno sotto la direzione del signor tuffano vincenzo dell'asd campionato dell'avvocato il porto contro il valencia porto che lo scorso anno in finale ha fatto propria l'europa league mentre invece il valencia ha vinto l'alloro molto più blasonato della champions league ricordiamo che nella post season del trofeo jack le otto peggio classificate in campionato vanno poi a concorrere per l'europa league mentre invece le prime otto giocano per vincere la champions league giorgio che ti aspetti da questo incontro guarda il porto si presenta con ottimi giocatori tutti conosciuti tutti amici mentre il valencia si propone con sei solo sei calciatori in distinta in rosa speriamo che questo non sia un lato negativo per il valencia per gli arancioni entrata in campo simbolica dove ogni dove ogni capitano ha portato in campo custodito tra le proprie mani il trofeo vinto la stagione precedente il porto ha custodito fino all'ingresso in campo l'europa league mentre invece il valencia la coppa della la champions league convenevoli a centro campo mentre direi che sia il caso di enucleare le due rose partiamo dal valencia che ha vinto lo scorso anno la champions league e si presenta solo con sei uomini come ha detto precedentemente la mia spalla giorgio lisio nel dettaglio col numero 22 col numero 22 de capo a tommaso col numero 4 il capitano matteo adinolfi col numero 9 ciccone domenico col numero 8 cioffi davide numero 6 riservato a mattia peluso mentre invece con il numero 7 abbiamo ferninando nappi porto in un inedito completo bianco verde quest'anno che schiera tra i pali salvatore delia portiere nonché capitano della formazione del trofeo jack con il numero 3 francesco silvestri numero 4 riservato a vincenzo nappi numero 6 per alessandro parisi numero 7 per andrea nocerino mario moccia col numero 8 antonio alfieri con il numero 10 mentre pasquale a ruta con il numero 11 sarà della contesa foto di rito e applausi dal pubblico a corso per sostenere i colori bianco verdi del del porto i trofei raccolti la scorsa stagione vengono scortati fuori dal campo e mancano pochi istanti all'inizio delle ostilità signor tuffano anche in questo caso raccoglie i calciatori al nel cerchio di centrocampo per le ultime raccomandazioni giorgio io penso che sarà una partita dai forti contenuti agonistici tu cosa ti aspetti invece ma guarda come già detto prima il porto presenta una rosa composta da diciamo tutti amici quindi schemi intese è già tutto oleato già tutto scritto mentre per quando riguarda il valenza come già detto due campione uscente quindi la squadra più forte tra secondo i pronostici sicuramente è una grande partita dai grandi contenuti l'agonismo che sia però che non sfoci però in aggressività in violenza fa riflettere come hai detto tu precedentemente il dato che il valenza porta solo sei giocatori una rosa risicatissima io lo vedo molto come un azzardo perché nel calcio a cinque i ritmi sono molto alti c'è bisogno sempre di un ricambio di uno di un di una sostituzione sempre col fiato col fiato mai corto c'è si corre sempre quindi quindi come già detto sempre sempre un azzardo però spero che il valenza mi contraddica con un calcio fatto da ottimi da ottimi spunti sia individuali che collettivi beh certamente il porto l'anno scorso è partito in sordina ma ha poi vinto un alloro europeo per così dire mentre invece il valenza è certamente un'ottima formazione saranno due squadre che nella regular season sapranno dire la loro avranno una voce forte cosa ne pensi giorgio indubbiamente indubbiamente perché sono squadre composte da ottimi elementi tutti bene o male tesserati in qualche club della gronolano staremo a vedere staremo a vedere in quest'anno in questa stagione che è iniziata iniziata con questi big match però noi attendiamo con ansia la stagione jack è solo il campo e il green del maracanà saprà dirci se il porto potrà candidarsi come una rivelazione di questo trofeo jack 2014-2015 intanto i capitani dell'IA e adinolfi al centrocampo per la consueta decisione fra possesso palla oppure scelta della porta da cui partire per la prima frazione di gioco e siamo pronti palla al valencia e che abbia inizio la finale la supercoppa europea jack 2014 ultimi convenevoli da parte del direttore arbitrale tufano vincenzo si parte primo possesso palla per il valencia per gli arancioni in completo arancio calzoncini neri e calzettoni arancio mentre invece il porto presenta un'inedita divisa bianco verde con calzoncini verdi e calzettoni bianchi una divisa che ricorda particolarmente quella del Ludo Goretz più che quella del porto per fare un paragone sempre europeo e poco locale insomma intanto prime fasi di studio con possessi che si alternano al centrocampo e attentato alla prima imbeccata offensiva il porto intanto il valencia si presenta pericolosamente dalle parti di delia con nappi che tenta il tiro ma l'estremo difensore del porto è attento e devia in angolo uno schema che poi coordinato dal capitana di nolfi non riesce a concretizzarsi è possesso del porto che si ripresenta in proiezione offensiva a nappi tenta il tiro ma viene rimpallato il valencia parte pericolosamente in contropiede decisivo qui l'intervento di delia esatto preziosissimo l'intervento di piedi dell'estremo difensore del porto incomprezioni qui purtroppo il regolamento è ben chiaro e bisogna rispettarlo senza ombra di dubbio giando da queste primissime battute di gioco sembra una partita molto briosa due squadre che si stanno in una attenta fase di studio ma non mancano delle occasioni concrete da rete guarda entrambe le strade entrambe le squadre non vogliono rischiare ci provano sì perché devono provarci vogliono portare a casa la coppa sicuramente ci sarà spettacolo via via andando nel clou della partita intanto capitano di nolfi si incarica di questa rimessa laterale su cui nappi non è non riesce a gestire un pallone abbastanza difficile in realtà cambio battuta sempre con errori penalizzano le squadre sono errori banali come detto in precedenza il trofeo jack è una competizione che sta molto attenta anche ai dettagli del regolamento e spesso si è assistito a rovesciamenti di fronte importante a causa di una disattenzione come ad esempio attenzione qui è e no non arriva la rete non arriva da rete no è l'arbitro affischiato qui devo essere devo essere sincero in decisione del portiere del valencia de capua al fieri si è affiondato però non è stato premiato dall'arbitro ricordiamo che non si può giocare il il pallone da terra e questo è il risultato cruciale a al fine di non assegnamento finale della della rete quindi punteggio ancora di zero a zero perché nel calcio a cinque nel trofeo jack non si può calciare il pallone se sei a terra non si può fare gioco da terra anche se Antonio Alferi però qui ci ha provato con un bel destro la risposta volante del portiere intanto in valencia torna ad essere una una trama offensiva importante nappi si cerca di liberare il destro al limite dell'aria ma riparte in contropiede il porto che passa in vantaggio porto uno valencia zero con la marcatura di alfiere Antonio Antonio alfiere sicuramente il più caldo dei suoi l'ha dimostrato prima con molta grinta anche se non premiato come già detto dall'arbitro ma qui con molta eleganza ha messo a sedere il portiere poi a portavoto ha segnato col sinistro sicuramente una marcatura pregevolissima è un appuntamento col gol solo rimandato di qualche secondo porto uno valencia zero il valencia cerca adesso di rimpinguare questo svantaggio ma è di nuovo il porto che si presenta pericolosamente al tiro con parisi guardi il porto è partito veramente bene forse il valencia non si aspettava questa partenza dei bianco verdi valencia che deve dimostrare la sua qualità e porto che deve continuare ad attaccare così intanto si ritorna si ritorna in gioco con adinolfi che batte una punizione Nappi Nappi trova un'ottima conclusione dal cerchio di centrocampo bella stilisticamente per coordinazione per precisione però il portiere si è dimostrato pronto e si De Capua si sta rivelando molto attento in questa prima fase di gioco in completo nero attenzione Nappi in avanti e anche Delia Delia totale completo bianco diciamo che candido Delia attenzione ritorna il porto in proiezione offensiva con con Alfieri che tuttavia non riesce a mantenere in campo la sfera rimessa laterale affidata al Valencia portiere palla al piede che serve ad inolfi cambia lato percussione centrale del Valencia che da Ciccone a Nappi vedo un Valencia poco concreto in in fase di realizzazione che ne pensi Giorgio guardi Valencia forse deve ancora deve ancora partire deve ancora entrare in partita però ci auguriamo il meglio sicuramente da parte della compagine in maglia arancione calcio d'angolo per i valenziani che si presentano alla bandierina con Ciccone ma la difesa del porto è attenta e allontana in rimessa laterale ancora calcio d'angolo con un coriaceo nocerino che le sta prendendo tutte Delia stavolta era un tiro diretto verso la rete difesa da Delia ma anche in questo caso l'estremo difensore si è dimostrato molto attento con nocerino ancora nel ruolo di tallonatore che guadagna una importante rimessa laterale e disinnesca l'azione offensiva dei degli arancioni ad inolfi si si protrae in un disimpegno importante che tuttavia non riesce a concretizzarsi la trama offensiva del del porto viene fermata dalla difesa arancione ma sul ritorno in avanti dei valenziani si ritorna al possesso bianco verde Alfieri con molta eleganza gestisce il pallone ma tuttavia non riesce a servire sulla fascia il suo compagno di squadra che stava sopra aggiungendo buona l'iniziativa di Alfieri non è stato capito però già Alfieri sicuramente sta dimostrando di essere il più caldo il più in gamba il più forte della sua squadra intanto vedo dei movimenti sulla panchina del del porto con un calciatore che sta effettuando del blando riscaldamento e attenzione fallo sulla linea mediana commesso da Nappi che entra duro su Mattia Peluso qui Peluso di mestiere si è andato a conquistare un fallo sulla mediana vediamo cosa ne uscirà una partita abbastanza contratta dove potrebbe contare molto anche il raggiungimento del bonus si devono i giocatori in campo devono fare attenzione con i falli perché ricordiamolo dal quinto qualsiasi fallo in qualsiasi posizione sarà tiro libero intanto la punizione battuta dal Valencia non non viene concretizzata in rete Parisi si involi in avanti e raccoglie una rimessa laterale che risulta un po' come un contentino per questa azione che mirava a fare male al portiere di Capua Delia palla al piede serve Parisi il servizio a Alfieri non si concretizza e e Nappi molto abilmente riesce a guadagnare una rimessa laterale si prosegue avanti con l'ennesima tuscia a favore dei giocatori bianco verdi che tuttavia gestiscono male la palla si allarga il Valencia Nappi esce sulla fascia per gestire la palla e guadagna una rimessa laterale Fasi di stallo in questo momento Giando Sì anche perché c'è un giocatore del porto a terra quindi bisogna un attimino capire l'entità di questo piccolo infortunio che ha colpito se non sbaglio Nappi Spero nulla di grave per lui Nulla di grave ma prontamente sostituito dal numero 3 Silvestri che termina il riscaldamento ed entra in campo pronto a dare il suo contributo alla sfida la sfida che ricordiamo è ferma sul punteggio di 1-0 a favore del porto quindi la compagine che ha predominato in Europa League sta avendo ragione dei blasonati vincitori della Champions del Valencia Valencia che anche adesso non riesce a pungere in attacco e ottima rimessa laterale in posizione chiave per il per il porto che tuttavia la gioca male Parisi è costretto a disimpegnarsi molto di mestiere per evitare guai ben peggiori Guarda Parisi qui è stato bravo perché c'era Attenzione Ingenuità difensiva di Nocerino che per poco non permetteva a Nappi del Valencia di agguantare il pareggio Adinolfi palla al piede proiezione offensiva prova a liberarsi al tiro di sinistro ma Adelia è molto molto attento dicevo prima su Parisi che era in difficoltà però molto bravo con mestiere a guadagnarsi quella rimessa Nocerino si appresta a battere la la rimessa laterale sulla tre quarti offensiva per il porto uno scambio rapido fra Nocerino e Parisi che viene bloccato da da Peluso Valencia prova a tessere una trama offensiva con un rapido scambio fra Peluso e Ciccone Attenzione di nuovo Peluso sulla fascia prova a superarne due ci riesce è scivolando a terra Forse c'era Mani lì eh in aria Sì un episodio abbastanza contestato specialmente da dal porto e arriva il il pareggio concretizzando un calcio d'angolo Porto 1 Valencia 1 con gli arancioni che ristabiliscono la parità Sì il Valencia come non abbiamo visto in precedenza è stato bravo a sfruttare un calcio d'angolo forse un po' distratta la difesa del porto vediamo la risposta di Biancoverdi Uno schema di gioco ultimamente applicato che ha portato al pareggio del Valencia Alfieri traccheggia parla al piede sulla tre quarti prova a liberarsi al tiro ma attenzione Peluso è una scheggia nel portarsi avanti in contropiede e il suo diagonale avrebbe meritato nettamente una migliore dose di fortuna Sì ha allargato troppo il piede non ha centrato la porta Adeli ha battuto Alfieri serve la corrente Silvestri ma è attento De Capua fra i pali Adinolfi palla al piede prova ad impostare Valencia ancora in possesso palla scambio fra Ciccone e Nappi Peluso Peluso che si libera ottimamente veramente è stato bravo finta di corpo si è guadagnato un altro fallo Peluso sembra che sia carburante anche il Valencia sembra uscito dal suo guscio sicuramente sarà un tocca sana per la partita Indubbiamente la squadra capitanata da di Nolfi sta riacquistando fiducia nei propri mezzi e vedo Peluso in ottima forma atletica Sì lo sta dimostrando pian piano durante la partita speriamo che continui così per la sua squadra e per la bellezza del match calcio piazzato Ciccone di destro deviata in calcio d'angolo da da ruta col numero 11 impegnato in barriera attenzione stava per concretizzarsi un altro schema importante sul calcio d'angolo ma fischio arbitrale che invalida l'azione da da fermo del Valencia torna il porto in proiezione offensiva Alfieri pulisce una palla sporca serve Silvestri sulla fascia destra Silvestri libera il sinistro serve di destro Alfieri defilato prova a guadagnare un fallo di esperienza viene fronteggiato dall'ottimo Silvestri eh bravo qui Silvestri di testa Silvestri che di testa impatta molto bene un un pallone offerto da Alfieri si riparte da dal falla fuori del porto commesso ai danni di Parisi e De Capo è molto molto attento sulla conclusione di Aruta un brevi lineo che sta mettendo molto in difficoltà la difesa valenziana si Pasquale Aruta è famoso per la sua velocità quando giocava al Casamarciano era soprannominato Pocio non a caso come il grande Pocio Lavezzi velocissimo speriamo che in questo match dia dimostrazione del suo soprannome della sua velocità e di rimando Ciccone con il numero 9 non è stato da Mene ed ha messo in difficoltà Adelia sugli sviluppi della rimessa laterale conseguente al tiro di Ciccone non si è sviluppato nulla di importante per gli arancioni Adinolfi grande servizio per il numero 7 Nappi che viene ostacolato da Aruta al tiro Aruta è stato fondamentale qui perché il numero 7 del Valencia in questione stiamo parlando di Ferdinando Nappi è stato agganciato ad un pallone veramente delizioso però sul secondo tocco non è stato abbastanza pronto lì Aruta è stato veramente bravo a contrastarlo e a rubare palle un ritorno difensivo prodigioso intanto sportellate fra numeri 4 Adinolfi che ha affrontato degnamente Vincenzo Nappi e qui Silvestri vicino alla rete Silvestri vicino alla rete un tiro impreciso tuttavia che termina alto alle spalle di De Capua si lo vedo carico Silvestri eh perché anche nell'altra occasione di testa ci ha provato è stato sfortunato pallone largo qui gran botta da fuori forse preludio del gol Giando vedremo solo il campo il campo saprà darci la la risposta intanto prima abbiamo assistito a Ferdinando Nappi che ha perso un'occasione molto importante perché non si è accorto effettivamente di essere smarcato alle spalle ha tentato di servire lateralmente gli esterni che stavano sopra aggiungendo intanto il Valencia si complica la vita e il porto guadagna guadagna un fallo time out time out chiamato dalla squadra arancione il capitano Matteo Adinolfi ha chiesto il time out per la sua squadra per il Valencia e 60 secondi di pausa 60 secondi per riorganizzare gli schemi di gioco e soprattutto riorganizzare i pensieri è un time out sicuramente strategico questo chiamato dal capitano del Valencia Adinolfi forse sì come giustamente hai detto tu per ricalibrare le strategie la tattica i giocatori in campo ma forse anche per prendere un po' di fiato dato l'esiguo numero della rosa del Valencia intanto ho appena notato che Adinolfi e De Capo hanno passato il time out nello spogliatoio a differenza degli altri giocatori che aspettavano in panchina guarda qui su questo non ti saprei dire probabilmente io la vedo dal punto di vista climatico oggi è stata sicuramente una bella giornata forse l'umidità il freddo potrà dire la sua forse da un punto di vista negativo e anche per questo quei giocatori del Valencia che sono rimasti in panchina si saranno riscaldati si saranno tenuti lontano dalle intemperie forse intanto Silvestri ha percorso la fascia ed è stato ottimamente servito da Alfieri purtroppo l'aggancio non è stato dei migliori e la palla si è spenta in fallo laterale a favore del Valencia altra rimessa da lato per il Valencia che continua a gestire palla con Adinolfi che prova ad imbeccare Nappi e stavolta la conclusione di Nappi non è stata molto precisa servito da Alfieri di testa che in questo caso si è saputo riciclare ottimamente come difensore e noto un cambio dei posizionamenti in campo del del porto Alfieri sta effettivamente giocando come centrale di difesa mentre invece il posto del pivò è stato occupato da Mario Moccia il numero 8 guarda Alfieri lo conosciamo bene è un grande un grande calciatore sicuramente non aveva problemi dal punto di vista di ruolo come pivò oppure come baluardo difensivo dimostra sempre la sua caratura tecnica per quanto riguarda Moccia è sicuramente un calciatore dalla stazza dalla grande stazza mentre qui un altro tiro non un bel tiro da parte di Nappi dicevamo su Moccia grande stazza il suo fisico potrà aiutare i bianco verdi in fase offensiva diciamo che le le ultime occasioni di Nappi al tiro non stanno riscuotendo altrettanto successo della prima conclusione una bellissima una bellissima conclusione scagliata da centrocampo che ha creato non poche preoccupazioni a De Capua intanto il Valencia torna in proiezione offensiva con Ciccone che molto defilato ha tentato di tirare al meglio delle sue possibilità si palla ricoquistata sulla tre quarti del porto da parte del Valencia palla subito all'attaccante degli arancioni che ci ha provato dopo un bello aggancio sfortunato forse quindi qui grande conclusione da parte Salvatore Buglione scusate da parte di Salvatore Buglione mentre ritornando su Vincenzo Nappi si è reso protagonista di una bella di una bella conclusione poi dopo solo conclusioni sciabbattate forse un po' di nervosismo partita che indubbiamente si sta rivelando molto molto dura fisica a livello proprio di di tenuta agonistica da parte di entrambe le squadre sono stati fischiati già diversi falli e penso che la nostra previsione si dovrebbe rivelare alquanto azzeccata quindi una delle due squadre penso che terminerà ben oltre il bonus la prima frazione di gioco sì abbiamo stiamo assistendo una partita maschia come si suol dire perché la posta in gioco è alta le due squadre si studiano forse ancora perché il punteggio ricordiamolo è di 1 a 1 voglio non vogliono fare sbavature anche se forse il porto mi sembra un po' distretto Buione recupera un ottimo pallone e sventa un potenziale due contro uno serve Peluso che trova il palo a separarlo dal vantaggio Peluso ci sta provando stasera vuole vuole la rete vuole portare in vantaggio i suoi però pare sfortunato indubbiamente l'ingresso di Buione ha ridato un equilibrio difensivo al Valencia vedo infatti la coppia di Norfi Buione molto molto rodata si ha dato ha dato fiato ha dato smalto ha dato tecnica e già sono già parecchi palloni che ha toccato e dai quali sono sono nate buone iniziative da parte delle Valenze intanto Nappi spedisce il pallone addosso all'attaccante Ciccone e Delia batte la rimessa dal fondo di nuovo Nappi Alfieri Alfieri tenta la palla lunga per servire Silvestri ma l'ottimo Buione davvero un ottimo impatto iniziale sventa tutto di nuovo Buione si disimpegna in modo molto molto elegante a centro campo fanno sportellate Nappi e Ciccone un confronto davvero duro guarda Nappi Vincenzo in queste situazioni è veramente forte protegge bene il pallone forse un po' meno nella conclusione però non deve non deve demoralizzarsi non deve perdere la calma Adinolfi serve ottimamente la palla a favore di Peluso che tuttavia viene murato letteralmente dai difensori biancoverdi si il capitano del Valencia Adinolfi sempre fonte di ispirazione attenzione qui la conclusione di Alfieri fonte di ispirazione di giocate per i suoi può sicuramente fare meglio Nappi in posta al centro campo Nocerino sulla fascia sulla fascia di nuovo Nocerino Adinolfi impatta il tiro Ciccone viene scaraventato a terra da Alfieri che d'esperienza ha provato a fermare in tutti i modi il il centravanti valenziano si era lanciato era lanciato verso la porta difesa da Delia è stato stato bravo Antonio qui a contrastarlo però il fallo c'era lo stesso e il porto 2 in barriera termina il bonus con questa punizione al limite Buione tocco morbido delizioso pallonetto è stato bravo è stato bravo è stato bravo Salvatore Buione in questa occasione però Delia non si è fatto trovare si è fatto trovare molto pronto Delia molto molto attento che ha previsto l'apertura difensiva degli uomini in barriera e sventa con un ottimo intervento di piede destro la conclusione arancio si sta dimostrando di essere un buon portiere il risultato mantiene anche grazie a lui è indubbio che per le squadre di un certo livello l'importanza e l'impatto di un portiere di livello è assolutamente indiscutibile assolutamente sì anche l'abbiamo visto nella partita precedente attenzione qui rischio di autogol l'abbiamo visto nella partita precedente tra Borussia e Inter mentre arriva la rete un'azione da Accademia uno scambio Peluso-Nappi che si conclude con la rete a scapito di Delia Valencia che passa in vantaggio sì una bellissima azione una bellissima azione da parte dei due lì davanti che stanno da parte anche di Peluso che sicuramente sta dimostrando di essere in grande forma di essere un buon giocatore il Porto che deve un attimo rivedere le posizioni difensive sono in questo momento sbilanciati ma anche equilibrio e sul vantaggio del Valencia arriva la arriva la comunicazione da parte dell'arbitro che decreta un singolo minuto di recupero per questa prima frazione di gioco prima frazione che si archivia quindi con un punteggio abbastanza striminzito in confronto alla partita precedentemente disfutata guarda rispetto a prima il divario tecnico attenzione è qui magia dicevo il divario tecnico tra le due squadre prima ma attenzione lanciato eh Mario Moccia qui non si capisce bene cosa colpevolmente lasciato solo da parte della difesa del Valencia sicuramente colpevole la retroguardia valenziana però Moccia non è stato non è stato bravo qui ad approfittare di questo regalone da parte degli arancioni sfortunato e arriva qui il fischio del primo tempo e sulla rimessa laterale che doveva essere battuta da Buione si archivia la prima frazione di gioco con il Valencia in vantaggio per due marcature a uno a scapito del porto sulla sulla pausa conseguente fra una frazione di gioco e l'altra lasciamo la linea alla regia alla prossima di gioco